Tanto affetto dei tifosi, parliamo con Vitale, uno storico tifoso, responsabile della sezione di Bologna del gruppo Respiro Azzurro. Allora, che bello il Napoli in Europa e seguirlo ovunque vada. Allora, saluto a tutti quanti, non sono il responsabile della sezione Respiro Azzurro di Bologna, sono uno del gruppo e il responsabile, facciamo un saluto a Maurizio della sezione Respiro Azzurro e a Franco Vescichelli che sono i due coordinatori. Io sono uno dei più anziani che fa parte di loro, così ho fatto tante trasferte con loro e siamo anche qua a Valencia a sostenere il Napoli che domani affronterà il Villareal a Castellon. Che sensazioni avete su questa partita? Le sensazioni sono bellissime, le sensazioni di essere vicino al Napoli, noi siamo con il Napoli al di là del risultato, noi seguiamo il Napoli. Se il Napoli ci fa piacere che superiamo questo turno saremo contenti, altrimenti faremo il nostro meglio domenica lunedì sera a Milano, senz'altro.